Il Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi concorrenti nella sua 18esima edizione. Stasera si terrà la lotta diretta stagionale tra Lorenzo, Shaila, Amanda e Giulia, ma Alfonso Signorini ha già assicurato un nuovo nome per il futuro del programma. Si tratta di Maica Benedicto, uscita a sorpresa dal gran hermano spagnolo nella puntata di ieri. Inoltre, si vocifera che Giulia Bruschi e Javier Martinez faranno il percorso inverso e si uniranno al reality spagnolo. Maica Benedicto è uscita in modo rocambolesco dal gran hermano e ora farà il suo ingresso nel Grande Fratello Italiano. Il conduttore Iona Ramendi ha fatto credere alla concorrente di essere stata squalificata, suscitando lo sconcerto generale. Dopo aver abbracciato la sua amica Daniela, Maica ha ricevuto una lettera sorpresa che la invitava a trascorrere del tempo in Italia. Nel frattempo, Giulia e Javier potrebbero presto approdare al gran hermano spagnolo. La notizia ha scatenato polemiche sui social poiché entrambi sono in nomination e al centro di dinamiche complesse nella casa italiana. In particolare, si parla di un possibile allontanamento di Javier da Shaila, che potrebbe essere gelosa dell'arrivo di Maica. Il Grande Fratello si prepara dunque ad accogliere nuovi volti e a vivere nuove emozioni. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli su questo avvinto.